La prima ripresa 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 Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, 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 non ti faccio. Non ti faccio, 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 non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. Buongiorno Allora! e l'entrino non lo vediamo vai oh, qui è? no, tu vuoi raggiungere la testa io, 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 io rito, rito, rito 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 a casa non la notte a casa non la notte dai, diana, non prenda su legato no, non partire da lato vai a lato, tu legato resta stop vai dai si vale go vai 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 stai Stacca, arriva! e la quarta ed ultima ripresa Stai! Stai! Va! Stai! Stai! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.